fabio faccio abbandona la rai arriva anche il posto su instagram del conduttore che annuncia la fine della lunga collaborazione con mamma rai il mio lavoro continuerà altrove d'altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni e me ne sono reso conto quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello che ho sempre fatto in questi 40 anni e non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in rai e conserverò solo un ricordo meraviglioso ci tengo a precisare che io e luciana litizzetto non abbiamo nessuna vocazione a sentirci vittime né martiri siamo persone fortunatissime avremo occasione di continuare altrove il nostro lavoro così fabio fazio in diretta che tempo che fa a proposito del passaggio discovery che coinvolgerà anche la sua partner di sempre luciana litizzetto ma c'è chi non si è trattenuto dal commentare questa news e ha lanciato un tweet forte è luca bizzarri comic attore del duo luca e paolo che si è espresso così il passaggio di faccia discovery accende una rete in più nella generalista è uno svantaggio per le altre reti compresa la rai ed è un vantaggio solo per discovery e per chi in tv ci lavora tipo me quindi chi scrive belli ciao non ha semplicemente capito una min puntini puntini il riferimento è palese luca replica il commento sulla questione fatto da matteo salvini che ha scritto sul suo profilo belli ciao per salutare eronicamente litizzetto e fazio ciao 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 ciao